Gli operatori in prolog sono una semplice convenzione notazionale, cioè un'alternativa sintattica che serve per facilitare l'utilizzo, la manipolazione, la leggibilità dei termini strutturati. E' possibile rappresentare strutture con uno o due argomenti dichiarando quale operatore l'atomo che viene utilizzato come funtore principale della struttura, scrivendo quindi le componenti della struttura come argomenti dell'operatore. La sintasi del prolog prevede tre categorie di operatori, infissi, prefissi e postfissi. Un operatore infisso può venire utilizzato per le strutture binarie e compare sempre fra i suoi due argomenti. Gli operatori prefissi e postfissi invece possono essere usati solamente per strutture unarie, con un solo argomento, e figurano sempre rispettivamente o prima o dopo il loro argomento. Per esempio, supponiamo di avere una struttura di questo tipo, che rappresenta non un termine, ma rappresenta una formula, dove abbiamo un predicato maggiore, che vedremo nella prossima unità didattica, con due argomenti, 5 e 3. Se noi lo lanciamo funziona, perché questo è un predicato predefinito, lo vedremo, ripeto, nella prossima unità didattica, e il prolog risponde. Ma a noi piacerebbe lanciarlo in questa maniera, perché avrebbe una notazione per noi più consona, quella infissa. Quindi il prolog, come stiamo per vedere, ci dà anche la possibilità di poter ridefinire questo atomo, che rappresenterebbe il nome di un predicato, come un operatore infisso, infece che prefisso. Questo ci consentirebbe anche, per esempio, non so, stessa cosa, quindi supponiamo di avere una clausola, che dice che Arianna riceve una visita, ci piacerebbe, siccome che il linguaggio normalmente antepone il soggetto, poi il predicato e poi l'oggetto, il complemento oggetto, a seconda, insomma, insomma, mette prima il soggetto e poi il predicato, ci piacerebbe metterla in questa maniera. Questo è possibile farlo in prolog. Quindi adesso vediamo come fare, ma anche dobbiamo prima parlare di precedenza e di associatività. Quindi chiamiamo espressione una struttura il cui funtore è rappresentato come un operatore. Ovviamente dobbiamo capirci bene, perché nel caso delle espressioni arittometiche, per esempio, 4 per 3 non rappresenta 12, ma rappresenta semplicemente una struttura che se non avessi messo l'operatore di moltiplicazione in maniera, come operatore infisso, sarebbe dovuta essere questa qui. Dopo, poiché una struttura può avere argomenti che sono a loro volta delle strutture, quando i suoi funtori, come vedremo, sono rappresentati come operatori, si ha un'espressione che contiene delle sottoespressioni. Diventa allora necessario evitare le ambiguità sulle sottoespressioni componenti, definendo appunto precedenza e associatività degli operatori. Quindi a ciascun operatore va innanzitutto associata una precedenza, che è un numero che nei prologo tradizionali va da 1 a 1200. Al numero di più piccoli corrisponde una precedenza più alta, quindi la precedenza più alta di tutti è 1. La precedenza più alta di tutti è normalmente assegnata agli atomi e alle espressioni contenute all'interno di una coppia di parentesi tonde. La precedenza serve ovviamente a eliminare l'ambiguità delle espressioni, la cui struttura non è appunto esplicitata mediante l'uso delle parentesi. Qui abbiamo ad esempio una espressione in cui abbiamo due operatori, due fontori che rappresenterebbero degli operatori elettometrici messi entrambi in maniera prefissa e adesso ci dovremmo chiedere qual è l'interpretazione da dare se una di queste due, in realtà anche la prima sarebbe ambigua se non sapessimo qual è la precedenza degli operatori. con la precedenza ovviamente che deriva dall'elettometrica e per noi queste due sono equivalenti. Oppure se invece la interpretazione giusta dovesse essere quest'altra. ovviamente e questo sarà definito mediante la precedenza. Dopodiché, se in una data espressione o sottoespressione sono presenti due operatori che hanno la stessa precedenza, per esempio qui, l'ambiguità che si determina oppure se per esempio avessimo dato la stessa precedenza come di fatto è all'operatore meno e più l'ambiguità che si presenta può essere risolta solo definendo l'associatività degli operatori stessi. Entrambe queste proprietà dell'operatore, cioè la priorità o precedenza e l'associatività vengono definite come stiamo per vedere e faranno parte appunto della natura dell'operatore. Prima di vederlo, vediamo come viene definita in prologue l'associatività perché un operatore qui è rappresentato in prologue adesso lo rappresenteremo con F invece con X e Y i suoi argomenti potrebbe sostanzialmente essere o un ario o binario. Se è un ario potrebbe essere prefisso o postfisso e nel caso fosse prefisso può avere una di queste due specifiche per quanto riguarda l'associatività. La prima significa che la sottoespressione X che dovesse seguire l'operatore deve avere come funtore principale un funtore che ha precedenza strettamente più bassa di quella dell'operatore. Se non fosse così bisognerebbe mettere la sottoespressione X fra parentesi tonde. Invece con F e Y possiamo avere una sottoespressione al posto di Y che ha operatori con una precedenza anche pari a quella dell'operatore. Stesso discorso vale nel caso in cui l'operatore è postfisso. In questo caso se lo definiamo il tipo XF vuol dire che l'espressione che lo precede deve avere un operatore un funtore principale che ha una precedenza strettamente minore di quella dell'operatore. invece con YF diciamo che l'espressione che precede l'operatore può avere anche la stessa come funtore principale anche un funtore che abbia la stessa precedenza di F. Gli altri casi sono invece relativi le altre notazioni sono relative al caso in cui l'operatore è binario e gli stiamo dando una notazione infissa. Partiamo da questa YF XF vuol dire che l'espressione di destra può avere anche un operatore della stessa precedenza dell'operatore un operatore principale che ha la stessa precedenza dell'operatore. In questo caso quindi avremmo un'associatività che è a sinistra. In questo caso qua invece abbiamo che la sottoespressione a destra può avere una priorità sostanzialmente pari a quella dell'operatore e quindi abbiamo che l'espressione in questione l'operatore in questione F sarà associativo a destra. In questo caso invece l'operatore si intende che deve avere sia a destra che a sinistra delle espressioni che hanno una il cui funtore principale ha una precedenza strettamente minore di quella dell'operatore che stiamo definendo e quindi in pratica stiamo dicendo che l'operatore in questione non è associativo. Facciamo adesso degli esempi. Supponiamo di aver definito sia il più che il meno con la stessa priorità e di precedenza YFx questo vorrebbe dire che sono associativi a sinistra quindi se io scrivo questa espressione questa andrebbe intesa così. Vediamo anche un altro esempio supponiamo di aver definito questo operatore di tipo YFx e quest'altro operatore come di fatto è nel prolog definito tipo XFy allora se io ho definito i due operatori in quella maniera lì allora l'espressione 1 strettamente maggiore di 2 strettamente maggiore di 3 verrebbe interpretata così come una associatività a sinistra e invece questo qui verrebbe interpretato in questa maniera cioè con l'associatività a destra questo perché fermiamoci su questo secondo caso questo operatore qui ammette di avere a destra un'espressione il cui il puntore principale sia strettamente sia non necessariamente strettamente inferiore ma potrebbe anche essere uguale all'operatore stesso infatti è il medesimo operatore l'altra espressione l'altra possibile interpretazione cioè questa qui non sarebbe corretta perché quest'operatore qui avrebbe alla sua sinistra una sottoespressione il cui puntore principale avrebbe la stessa sua precedenza ma questo è escluso da questa x qui e la stessa cosa si può dire per gli operatori unari perché il significato dei tipi ammessi per questi operatori sia per quelli prefissi che post fissi funziona in maniera analoga facciamo un esempio supponiamo definire un operatore NOT di tipo FY se NOT è di tipo FY allora io posso certamente scrivere NOT G e anche posso scrivere NOT NOT G perché l'espressione che il NOT ha alla sua destra ha la stessa priorità del NOT stesso e questo è ammesso dalla specifica FY per questo operatore prefisso ma se io avessi specificato NOT non di tipo FX ma FY ma FX allora non avrei potuto scrivere cioè il prologue non mi ammetterebbe questa scrittura perché la sottoespressione a destra di questo NOT ha la stessa precedenza e questo non è ammesso da questa specifica qui quindi dovrei in questo caso dovrei scrivere NOT in realtà dovrei anche scrivere così per essere sicuro di non commettere errore vediamo quindi adesso come si definiscono gli operatori in prologue in prologue è possibile dichiarare come operatore un funtore che abbia una precedenza P una precedenza P un'associatività T essendo N il nome cioè l'identificatore di questo operatore mediante questa una direttiva di questo tipo fatta così questa è una direttiva che viene inserita per esempio all'inizio di un programma e definirà un certo operatore dando una certa precedenza e una certa associatività come abbiamo visto poco fa facciamo un esempio supponiamo definire l'operatore freccia verso destra che viene utilizzato dal prologue come per implementare la struttura if then else lo vedremo qui là dando una precedenza un numero molto alto quindi una precedenza molto bassa e dicendo sostanzialmente che questo operatore sarà un operatore associativo a destra questo è fatto così se abbiamo che più operatori condividono sia la stessa precedenza che la stessa associatività invece che scrivere ciascuno su una riga possiamo metterli all'interno di una coppia di parentesi graffe quindi questo predicato op che è scritto così una direttiva consente di dichiarare appunto gli operatori in questa maniera ovviamente ci sono nel prolog tanti operatori predefiniti in questa maniera gli operatori specifici dipenderanno dalla particolare implementazione però quello che adesso noi possiamo fare è fare degli esempi che speriamo ci aiutino a capire supponiamo ad esempio di definire questi operatori qui definiamo con una precedenza 100 un operatore non associativo si trova in quindi non associativo vuol dire che non può essere combinato con se stesso un un operatore concatenando che sarà un operatore infisso non associativo cioè deve avere eventualmente come come argomento a sua alla sua destra una una espressione strettamente che abbia precedenza strettamente minore di 250 e quindi un numero di precedenza maggiore di 250 lo stesso per E poi abbiamo si ottiene ovviamente qui gli apici dobbiamo utilizzare perché c'è lo spazio cancellando da e poi supponiamo di andare a definire queste clausole vediamo per esempio le prime due elemento e questa è una variabile perché inizia per E si trova in elemento di una notazione che abbiamo visto la notazione testa coda di una lista si trova alla testa di una lista oppure l'elemento si trova questa è una seconda clausola come vedete separata da un punto si trova in una lista che non ha specificata la testa in coda se l'elemento si trova in coda in pratica non abbiamo fatto altro che ridefinire il member e invece con le altre quattro che fanno uso degli operatori che abbiamo visto successivamente abbiamo ridefinito l'append perché concatenando la lista vuota ad una qualunque lista si ottiene la lista stessa questa è la prima clausola dopodiché concatenando una lista che ha una testa e una coda con un'altra lista l2 si ottiene una lista che ha la medesima testa e una coda diversa se concatenando l1 ed l2 si ottiene l3 e e quindi questo è l'append dopodiché le ultime due sono l'implementazione del cancella perché cancellando e da una lista che ce l'ha in testa si ottiene il resto della lista cancellando invece e da una lista che non ce l'ha in testa si ottiene una lista che ha una coda diversa dove supponendo che e sia diverso dalla testa quindi vedremo questo significa disgiungere le due clausole questo la clausola ricursiva partirà solo quando non parte la prima clausola cancellando e da c1 si ottiene c2 adesso noi salviamo tutto questo e lo facciamo consultare che c'è questo è il PL4 abbiamo consultato adesso proviamo a fare delle domande per esempio possiamo chiedere se B si trova dentro la lista ABC e risponde sì possiamo anche chiedere se c'è un elemento che si trova nella lista e vedete che il prolog risponde correttamente adesso questo è un altro modo per implementare il member un modo che sembra più leggibile da un operatore umano oppure possiamo chiedere al prolog concatenando la lista B e X si ottiene ABCD quindi qual è la X la X in questione lui ci risponde è la lista che ha C e D in pratica non abbiamo fatto altro che da implementare l'append e dandogli una leggibilità forse maggiore da ultimo facciamo anche questo esempio chiediamo a prolog cancellando 5 da 1, 3, 5, 7 la lista che contiene questi 4 elementi si ottiene X dammi la lista che si ottiene cancellando 5 da quella lista e la lista che si ottiene è la lista che gli abbiamo dato con il 5 eliminato altre soluzioni non ci sono bene questa era l'introduzione sugli operatori poi faremo degli esercizi e vedremo anche delle applicazioni in realtà le prime applicazioni del concetto di operatori le vediamo subito nella prossima unità didattica che è dedicata all'eritmetica dove questi concetti sono stati utilizzati all'interno del prolog per definire gli operatori aritmetici e gli operatori di confronto che sono predefiniti quelli lì ma esattamente come li stiamo vedendo adesso sono predefiniti esattamente in questa maniera qui all'interno del linguaggio grazie a tutti